Prima dell'uso dei tempi moderni si usava a riparare tutto o fare tutto su misura. Un esempio classico è il calzolario. Il calzolario partiva da forme che simulavano il piede della persona, molto spesso venivano ritoccate per adattare gli eventuali difetti dei piedi e utilizzando vari strumenti, qui ne vediamo alcuni, la cucitrice, il calzolario, questo è un modello abbastanza vecchio per cui ci dà un'idea di come lavoravano allora. Poi ci sono gli utensili manuali che servivano a lotellare il cuoio, disegnarlo, incidarlo e così via. e poi c'era questo che serviva per le riparazioni. Quando bisognava risuolare le scarpe o fare i tacchi, il calzolario procedeva con vasi in mezzo alle gambe e lo picchiettava il cuoio fino a che otteneva il risultato voluto. Che cos'è il mestiere dell'orlatrice? Intanto spieghiamo quello. Allora, l'orlatrice prepara la tomaia che è la parte in pelle per fare una scarpa. Diciamo che il calzolaio prepara una sagoma della scarpa che poi veniva ritagliata sulla pelle e il lavoro dell'orlatrice consisteva nel mettere insieme i vari pezzi di pelle per fare la tomaia. Certo. La tomaia è tutta la parte in pelle sopra. Cioè con la cucitura dietro la tomaia prendeva un pochino di sagoma perché cucendola così praticamente era piatta però non c'era nessuna forma. Certo. La forma veniva messa dopo dal calzolaio, cioè veniva appoggiata la tomaia sulla forma di legno poi inchiodata sotto e poi la scarpa è finita. In ogni aia una volta c'erano anche i maiali. I maiali che servivano al sostentamento della famiglia. Venivano macellati da una figura che andava in giro nelle varie contrade. Si chiamava il Norcino da Norcia, che è il paese umbro famoso per le cose assicce. E famosi anche quelli di Accentino. Il maiale veniva macellato, veniva fatto a pezzi e poi si confezionavano alcuni tranci interi come la coppa, i prosciutti eccetera. Alcuni tranci venivano poi triturati, con questa macchina un torchio veniva messo il pezzo di carne qui dentro e usciva sminuzzato. Questo pezzo sminuzzato veniva introdotto in questa specie di pressa con una maniglia che era dentro spingeva avanti la carne tritata e usciva da questo imbuto su cui era infilato il budello dell'animale che serviva a fare il salame. Questo è il salame perché lo avete abbastanza grosso. Questo è il pezzo sminuzzato, più piccolo. Quindi in questo modo i proprietari dei maiali si mettevano nella cantina stagionale i loro salumi, normalmente molto buoni. Qui abbiamo alcuni piccoli attrezzi, non abbiamo messo i martelli o pinze e roba del genere, abbiamo cose un po' particolari. Questo è un trapano su cui venivano fissate le punte per fare la panatura sia di legno che di ferro. Veniva chiaramente azionato a mano girando questa maniglia. Per fare più forza si appoggiava alla spalla per schiacciare con più potenza la punta del materiale. Qui invece abbiamo varie chiavi, queste sono chiavi regolabili, vedete. Questa è la cosiddetta chiave inglese, quindi veniva adattata come misura. Qui invece abbiamo due attrezzi che erano utilizzati un po' in tutti i settori. Anche i lucini li utilizzavano. Questa è una stadera per grossi carichi, pesavano addirittura il maiale intero. Questa è una stadera grossa che non è chiaramente appesa da qualche parte. Vediamo un po'. Ecco, una stadera abbastanza luminosa, questa portava fino a, come dico subito, a 120 kg. e quindi venivano pesati i sacchi interi, i tranci di vestie macellate e così. Come funzionava? Qui si attaccava il peso, questo veniva ancorato in una collezione rissa. E questo serviva a determinare, quando l'asta era in equilibrio, serviva a determinare il peso che era agganciato a questa bilancia, a questo stadera. La stessa cosa con queste, solo che questa è molto più piccola. Veniva usata normalmente in posizioni volaniche, sui mercanti eccetera. dove non c'era la possibilità di mettere una pesa fissa, utilizzavano questo. Qui sotto ci si metteva un peso che voleva pesare. Vediamo che questo non sia troppo. E si andava a portare l'asta in equilibrio. Quando ci riesco. Ecco, poi qui c'erano quelli più in gamba che riuscirono a fregare le massaie, vendendogli meno, facendogli pesare di più. Prevendendo questa palla. Come and all.